Mamma mia raga Così ci vogliono far morire Ci vogliono far morire Oddio E meno male che Conte vuole cambiare il DNA Pazza Inter Sì sì come no Il DNA non lo cambi Non lo cambi Mamma mia raga Però grande vittoria Andiamo a vincere a Borussia O a Munchenglaba Che non so come si chiamava Come si chiamava la loro città Però andiamo a vincere per 3 a 2 Con una prestazione Di Romelu Lukaku raga Romelu Lukaku Che giocatore Romelu Lukaku Ma io non lo so Ma ancora ci sono le vedove No le vedove di quella gente lì Ancora ci sono i banditos in generale Ma come Ma dico Lukaku Che partita ha fatto Cioè il primo gol Sul gol di Darmian Tra l'altro anche Darmian Partita Eccellente Benissimo Darmian Sul gol di Darmian Lukaku fa una sponda di tacco Perfetta Cioè l'idea di fare la sponda di tacco per Barella Poi Barella fa la facile facile per Darmian Poi Darmian bellissimo Ma Lukaku è un fenomeno È fortissimo Poi i due gol Quello di destro Meraviglioso Vabbè è l'ultimo Facile facile Che tra l'altro Quelli facili sbaglia sempre Quindi Per lui Quelli era un gol difficile Ma andavamo a metterla dentro Abbiamo fatto il 3 a 1 Poi ci hanno fatto quel 3 a 2 E quel 3 a 3 Vedi raga Sono mezzo infartato Perché Ci segnano col pareggio in quel modo Tra l'altro fuori gioco Netto Io l'ho visto subito in diretto Ho detto subito Quello è fuori gioco Come fai a non darlo Meno male che poi Esiste il VAR E ha dato il fuori gioco Comunque ancora siamo vivi Siamo vivi perché Lo Shakhtar ha battuto il Real Clamorosamente Sto Shakhtar È qualcosa di assurdo Ma vabbè Prende Sberre col Borussia Prende 10 gol dal Borussia E poi batte 2 a 0 il Real Vabbè Questi sono dettagli Quindi siamo ancora vivi Se la prossima noi vinciamo E in caso il Real dovesse perdere Passiamo noi lo stesso Se il Real pareggia Deve sperare Che l'Inter vinca Perché se l'Inter pareggia o perde E il Real pareggia Il Real va a casuccia Quindi io non penso che Giochino per il biscotto Soprattutto mentalità del Real Penso che vada contro il Borussia Per vincere E noi ovviamente dobbiamo vincere Come oggi Siamo in sombra di dubbio Non è che non esiste né pareggio Vabbè A sconfitto ovviamente no Bisogna per forza vincere Quindi bisogna andare di lì Con la testa San Siro Di dominare E vincere la partita Poi Andrà come andrà Ma noi bisogna giocare con la testa Di andare lì Giocare a San Siro Nel nostro stadio E vincere Punto Come abbiamo giocato oggi Come abbiamo giocato con Sassolo Forse si è rivisto un po' di Anzi no forse In queste due partite Speriamo che non è un fuoco di paglia Si è rivista la mentalità di Conte Del Sergente Di quello che fa giocare la squadra Come dice lui No di quei morti Che vedevamo Fino a partita prima Col Sassolo Quello non era l'Inter Quello era Provercelli Meno male che sembra che Sembra Sembra Sottolineo Sembra che si siano svegliati E abbiamo ritrovato La mentalità Che avevamo l'anno scorso Che quest'anno sembrava persa Quindi meno male così Meno male Per il resto ragazzi È stata una prestazione ottima Da parte di tutti È stata una partita dove Abbiamo meritato la vittoria Secondo me Perché sì Il Borussia Ha fatto delle buone ripartenze Una buona squadra Tra l'altro L'altro di loro Se lamentava Che quello lì Non doveva essere annullato Il gol No Lo dici tu Io spero che adesso Mentre riguardi le immagini Lo vedi anche te Che quello lì è un fuori gioco netto E dà fastidio ad Andanovic Solamente un cretino Direbbe di no Quindi speriamo Che la sua mentalità Perché anche a fine partita Continuava a rompere le palle Comunque da prendere il culo Hai perso Questo sicuramente Stavo dicendo Comunque hanno giocato tutti benissimo Dal primo all'ultimo Noi abbiamo avuto le nostre occasioni Loro hanno avuto le loro Però Noi abbiamo giocato meglio Abbiamo meritato la vittoria Punto Questo sicuro Noi abbiamo giocato meglio Abbiamo meritato di vincere Poi dopo si può andare a valutare Qualsiasi cosa Ma noi abbiamo giocato meglio Abbiamo meritato questa vittoria Adesso andiamo contro lo Lo Shakhtar Come ho detto prima Sperando No sperando Riuscendo Confermando una vittoria Perché solo quello si può fare Poi magari riusciamo lo stesso Bisogna vincere Punto Confermando una vittoria Sperando anche Un risultato positivo Dall'altra parte E clamorosamente Prima di questa partita Abbiamo due punti Potremmo passare ancora il girone Clamorosamente Veramente clamoroso Crociamo Vedete come Così E niente raga Io vi saluto Vi ringrazio sempre Forza Inter Lasciate un mi piace Un commento Un'iscrizione al canale Se qualcuno l'avete fatto Seguitemi su Instagram Just Matti Tartino basso Yt Che mettiamo qualche storia Pagelle Via discorrendo Io vi saluto Sempre Forza Inter E ci vediamo Quando giochiamo Non mi ricordo Quando giochiamo Regi Mercoledì Mercoledì No Quando giochiamo Conto il Bologna Conto il Bologna Domenica Domenica Non mi ricordo Vabbè ragazzi Non mi ricordo mai Quando gioca l'Inter Le partite Scusate Sempre così Niente Sempre Forza Inter A ora Domenica